L'idea di fare una fiera del libro itinerante nel nostro paese è una bella idea. Il libro e la cultura uniscono le differenze, fanno incontrare persone diverse, quindi l'idea che nella nostra città ci possa essere mi trova d'accordo. Poi bisogna ragionare concretamente con gli organizzatori, mettere insieme le istituzioni che evidentemente devono organizzare, che tipo di finanziamento c'è bisogno, perché chiaramente il Comune da questo punto di vista come è notorio, stiamo parlando ai margini del bilancio del Consiglio Comunale e del Previsionale, non ha risorse almeno significative per poter finanziare, però ci sono altri enti che lo possono fare, però l'idea mi sembra buona, quindi diamo la disponibilità a sederci a torno a un tavolo.